ciao amici e amiche marcodrans games playstation plus mese novembre 2022 andiamo a vedere che cosa hanno messo allora ragazzi questo mese c'è nico 2 playstation 5 io l'avevo già comprato non lo scarico ma ragazzi mio 2 ok raga quindi tanta tanta roba tanta roba tanta roba non c'è neanche va bene io due non ha bisogno di presentazione è il gioco giapo perché non c'è il qualche qualche video vabbè non c'è harry potter ragazzi io ce l'avevo a disco è bellissimo lego harry potter è veramente fatto bene è un gioco lego di harry potter però è veramente bello ok hanno dato questo che sarebbe praticamente la collection harry potter hanno 1457 e allora qui è difficile da pronunciare ragazzi è event li bodies event li bodies allora è un gioco di space è un gioco di space che non ci fa neanche vedere tra l'altro quindi è veramente bello vedete che bello è un gioco di spazio molto carino vediamo un attimo se magari caricandolo ce la fa vedere però questo non è lo store ma è il il o dai dovevamo aspettare un attimino marco vedi bisogna fare queste cose quindi assembly data tower vabbè adesso poi lo portiamo sul canale vediamo un attimo poi ricordo che ci sono le versioni di prova tipo questa versione elementer wars 2 l'ho provato e ho comprato il gioco quindi ragazzi potete provare anche compresi nel playstation plus questi giochi tra l'altro c'è anche il moto gp in mega offerta sta adesso tra l'altro e lx2 alla metà la metà ok poi ci sono i titoli che inseriscono nel catalogo extra e premium c'è grand theft auto vice city c'è dark quest 11 c'è odyssey dragon quest builder 2 builder 2 eros 2 medium tutti dragon quest hanno messo comunque naruto gli assassin creed syndicate o o cum little hope che lo sto portando anche sul mio canale twitch ragazzi seguite il mio canale twitch e man of medan che sarebbero i primi due poi uscirà anche il terzo allora io sono abbonato anche playstation e a play hanno messo il grid poi sinceramente altre cose non la the sims 4 che è un bel gioco è un bel gioco questo è un abbonamento a parte però invece compleso nel playstation plus c'è l'ubisoft più classic hanno messo odyssey origin valhalla l'assassin creed 3 poi c'è il ghost tutti e tre questi qui che sono quelli stealth sono molto carini questi giochi io li avevo comprati quando erano usciti the crew 2 syndicate rabbit legend scott pilgrim steep steep non è male for honor rogue black flag freedom city praticamente tutti tutti gli assassin creed e far cry tra il quattro unity ezio collection ragazzi l'avevo comprato lasciamo stare trial rising e da provare è veramente bello ragazzi è questo questo rivedere il pesce non è bello 1 monopoli bellissimi monopoli anche se sono in monopoli valiant earth ve lo consiglio ragazzi perché è veramente veramente bello vabbè poi south park fichissimo è incluso anche il primo trial fusion zombie vecchissimo era era fatto anche per la wii la wii starlink è molto bello un gioco da ragazzi bellissimo star trek e track mania turbo e niente ragazzi quindi ci sono come sapete ormai da tempo premium extra essenziale essenziale solo per giocare online il cloud con le cose di e i pacchetti extra che danno lo share play e la memoria di archivazione del cloud invece l'extra vi da anche i giochi mensili e il premium vi dà le prove di gioco lo streaming nel cloud dei giochi ps3 quelli vecchi e catalogo dei classici è ok ragazzi dai ci vediamo ci vediamo alla prossima con marco drams games ci vediamo dicembre con i giochi del playstation plus grazie a sony grazie a tutti voi iscrivetevi al mio canale youtube facebook twitter instagram tito twitch lascio tutti i link in descrizione iscrivetevi portate gente sul canale più siamo più fiamo facciamo cose bellissime fichissime ciao ragazzi ciao ragazze mitici mitiche alla prossima al prossimo mese ciao